Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Doppio saltello più pugno frontale. Via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Prossimo esercizio. Jump jump squat. Via! Se non ce la fai, non saltare lateralmente e quando risali dopo lo squat, solleva leggermente un piede da terra. Fai attenzione a non superare con le ginocchia alla punta dei piedi, così eviterai eventuali problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante i salti. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare a terra il tallone. Termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Power jack. Via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Saltelli più rotazione della gamba. 3 2 1 Via! Se non ce la fai, non saltare. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non poggiare a terra il tallone. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. 3 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore incrociato. 3 2 1 Via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. 5 4 3 2 1 Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte più pugno frontale. 3 2 1 Via! Se non ce la fai, effettua solo la corsa con ginocchia alte. Non poggiare a terra il pallone. Termina la discesa su due punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali più salto. 3 2 1 Via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5 4 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Squat più plank and jump. 3 2 1 Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali e i glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Esegui un movimento lento, sia in fase di salita che di discesa. Così... 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Passo laterale in squat più salto. 3 2 1 Via! Se non ce la fai, non saltare. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Fai attenzione a non sollevare il tallone. Non distendere le gambe. Devono essere sempre leggermente flesse. 5 4 3 2 1 Stop! Prossimo esercizio. Corsa con calcio posteriore. 3 2 1 Via! Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non poggiare a terra il tallone. Termina la discesa sulle punte. 5 4 3 2 1 Stop! 5 5 5 6 6 8 9 10 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 16 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 21 22 23 23 24 24 25 25 25 25 26 Jumping jack più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effetta un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Protezione busto in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non muovere le gambe durante la rotazione. Mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch incrociato con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo il ritmo sostenuto ma senza saltare. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Saltelli più crunch laterale completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. Non poggiare a terra il tallone. Fa' attenzione ad atterrare sulle punte. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi, gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Saltelli con rotazioni. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Non piegare la testa. Aiutati guardando un punto avanti a te. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Non piegare le braccia durante i salti. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Power jack. Via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inercare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Saltelli più rotazione della gamba. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non poggiare a terra il pallone. Fa' attenzione ad atterrare sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat più a fondo posteriore incrociato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno la gamba nella fase di discesa. Non superare la punta del piede con il ginocchio durante gli affondi e gli squat. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore durante gli affondi. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni l'addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua solo la corsa con ginocchia alte. Non poggiare a terra il tallone. Termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali più salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat più plank and jump. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali di glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Esegui un movimento lento sia in fase di salita che di discesa. Così... 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Passo laterale in squat più salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Fai attenzione a non sollevare il tallone. Non distendere le gambe. Devono essere sempre leggermente flesse. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Corsa con calcio posteriore. 3, 2, 1, via! Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Non poggiare a terra il tallone. Termina la discesa sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 5, 4, 3, 2, 1, stop! 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Corsa skip lenta più power crunch. Via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena. Quando sollevi la gamba, il busto deve essere sempre dritto. Quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il tallone. Fa' attenzione ad atterrare sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Jumping jack più calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Rotazioni busto in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non muovere le gambe durante la rotazione. Mantieni sempre i talloni saldi al pavimento e le ginocchia rivolte in avanti. Mantieni sempre gli addominali contratti durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch incrociato con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Contrai gli addominali durante il movimento per stabilizzare la colonna vertebrale. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Saltelli più crunch laterale completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. Non piegare la testa. Non piegare la testa. Non piegare a terra il pallone. Fa attenzione ad atterrare sulle punte. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch completo in piedi, gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Saltelli con rotazioni. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Non piegare la testa, aiutati guardando un punto avanti a te. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Via! Prossimo esercizio. Stretching femorali e glutei. Via! Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Prossimo esercizio. Stretching adduttori. Via! Non piegare il busto, tienilo sempre parallelo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! 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 Non superare la punta del piede con il ginocchio per non creare problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia e pettorali. Via! Non forzare la spinta verso l'alto. Fermati quando senti di essere al limite. Via! Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. Esegui un movimento lento e regolare o rischi problemi alle articolazioni. Grazie a tutti